dialogo mutuo della coscienza stai zitto come fai silenzio in effetti non può esserci che un dialogo mutuo con la coscienza cos'è il fondo in fondo non so cosa sia la coscienza so come agisce so come si muove so come si attua allora questo dialogo mutuo è l'espressione della coscienza proprio perché della coscienza non sappiamo nulla la coscienza è muta agisce silenziosamente tuttavia in questo silenzio agisce questo silenzio muove smuove stando zitta e muta si può anche dire che non esista in fondo non esiste nessuno l'ha mai incontrato la coscienza e allora si può anche dire che non esiste in fondo non bisogna render conto alla coscienza se non esiste allora è facile che in questo esser muta vi sia l'alibi di non dover rendere conto ad una coscienza che solo si dimostra silenziosamente non è l'alibi di non dover rendere conto non è l'alibi